Questo programma è offerto da CDA, gestione distributori automatici, una scelta naturale. A tutti voi buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Buonasera Daniele. Buonasera Alessandra, buonasera ai telespettatori a casa. Una puntata speciale, quella di questa sera, ci avviciniamo all'8 marzo e insomma ci è piaciuto dedicare una puntata, avere una puntata tutta al femminile. Quasi tutto. Con diverse, sì quasi, purtroppo non ci è riuscito fino in fondo, ma vabbè pazienza, sarà per la prossima volta. Mi sono sacrificato. Allora, parleremo di donne che operano in campi diversi, in diversi settori, ma che sono accomunate proprio dal fatto di essere donne di carattere determinate, che hanno intrapreso strade diverse, ottenendo risultati importanti. Sesso debole a chi? Questo è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata di Elettroshock. Quindi Daniele, senza perdere troppo tempo, andrei subito a presentare le ospiti di questa sera. Parto dalla mia destra e saluto, ringrazio moltissimo per la sua partecipazione Emanuela Dicenta. Grazie davvero, grazie di cuore per essere con noi. Di Paluzza, campionessa olimpica. Anche lei ha tentato varie strade, è stata in grado sempre di lasciare il segno dallo sport, ma poi c'è stata anche la politica e la televisione, perché non possiamo dimenticare anche l'esperienza di conduttrice televisiva. Insomma, ci ha provato in diversi campi, ha lasciato il segno, ha ottenuto risultati importanti, magari ci racconterà anche qualche segreto, ci darà qualche consiglio su come fare a raggiungere risultati così importanti. E poi salutiamo e ringraziamo Antonella Nonino, dell'omonima famiglia di Distillatori Friulani, una famiglia dove le donne contano, e come se contano Antonella, vero? Siamo tutte donne, a parte il papà ovviamente, sempre attivo, e tutti i collaboratori, i distillatori, che sono in realtà, sono in effetti uomini, però nella nostra famiglia è tutto molto in forma femminile. Insomma, bisogna pensare alle quote azzurre, è uno dei casi in cui... Sì, è quello che ha detto Elisabetta, infatti. Toccherà a un certo punto pensarci, assolutamente. E poi vicino a me c'è Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia, che ringrazio moltissimo per essere qui, insomma un altro settore rappresentato qui, e un'altra storia importante è quella di una persona che ci ha messo veramente tanto impegno, ma soprattutto tanto entusiasmo, tanta forza e tanta determinazione per dare un aiuto concreto alle famiglie appunto che convivono con persone che hanno l'autismo. Racconteremo poi nel corso della puntata la sua storia. Allora, proseguiamo, la mia sinistra con Irene Cardillo, miste le Friuli 2020. Sì, buonasera a tutti. Questi studi in coronata il 19 febbraio. Esattamente. E poi insomma ci racconterà l'emozione e l'importanza di portare questa fascia al nome di Telefriuli, anche in un concorso poi prestigioso. Certamente. Al suo fianco c'è Carla Dibert, che è un'insegnante del liceo Einstein di Cervignano, ed è tra le 20 migliori insegnanti d'Italia. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Grazie intanto di essere intervenuta qui con noi. Poi ci racconterà perché l'hanno selezionata tra i 20 migliori insegnanti d'Italia e quanto poi la scuola in questi giorni sia in sofferenza per i motivi che tutti conosciamo. Storie di talento, storie di eccellenza, storie appunto di donne che hanno saputo fare la differenza nei rispettivi settori. Ovviamente racconteremo queste storie questa sera, ma non possiamo non tenere conto di quello che sta succedendo in questi giorni, giornate contraddistinte dall'emergenza coronavirus che costringe tutti noi a fare molte riflessioni, anche a rivedere quella che è la nostra vita quotidiana. Parto da Manuela Di Centa perché questo virus ha avuto i suoi effetti, in alcuni casi dirompenti, anche per quanto riguarda lo sport. È la prima volta che il Paese si trova ad affrontare uno stato di emergenza sanitario e quindi quotidianamente ci si trova a prendere decisioni, a fare scelte che mai prima ci si era trovati a compiere. Questo ha portato qualche subbuglio anche nel mondo dello sport. Sì, indubbiamente innanzitutto si è preso atto che lo sport ormai è entrato, come dire, alla grande nelle vite di noi tutti perché si è visto che appena si è parlato di un minimo cambiamento in programmazioni o in momenti di gara e quindi di aggregazione, subito c'è stata un'alzata di scudi che però subito ha fatto seguito a questo, prima la salute e poi lo sport. Quindi la grande importanza che lo sport sta avendo sempre di più nella nostra società si è rispecchiata proprio con quello che sta succedendo perché ci si è resi conto proprio che attraverso anche lo sport è cambiato moltissimo. Quindi prima la salute che cosa vuol dire oggi come oggi? Vuol dire dare la possibilità, meno possibile, a questo virus di stare uno insieme all'altro. E chiaramente lo sport è stare insieme, soprattutto stare insieme, fare spettacolo ma anche tanto pubblico e tutte queste limitazioni vanno in questo senso. Quindi il meno possibile insieme, cercando di tutelare il più possibile la competizione di per se stessa. Quindi se cercato di dare la possibilità di riorganizzare a porte chiuse, come si è detto, oppure anche riorganizzare in altra data, quindi riprogrammare, certo ci sono stati tanti momenti di difficoltà sia per le grandi cose, le grandi partite, ma anche per il quotidiano degli sci club, delle mamme, dei papà che pensavano che il loro piccolo, il loro piccolo andasse in piscina. Ecco, ci si è fermati in tutto questo, si è dilatato moltissimo e ci si è reso conto che lo sport era, è e lo sarà, spero a breve, un momento di grande aggregazione, quindi un momento in cui stiamo tanto insieme. E questa è la forza dello sport che in questo momento però ci fa capire che per ragione di contagio proprio dobbiamo stare attenti, fare dello sport ma stare ad una distanza fisicamente consona che ci permetta di mettere, quello che possiamo mettere, quei puntelli di salvaguardia di noi stessi per la trasmissione del virus. Certo, non è facile, soprattutto perché lo sport poi si articola non solo a livello regionale, ma a livello nazionale e anche a livello internazionale. Assolutamente sì. E abbiamo visto delle cose interessanti, chiamiamolo in questo modo. E tra l'altro ci sono insomma anche le Olimpia di Manuela Dicente, membro onorario del Comitato Olimpico Internazionale. Parleremo, avremo modo di parlare anche di questo nel corso della puntata. Continuerai con un giro veloce perché insomma il coronavirus, l'abbiamo capito, si sta facendo sentire anche sul fronte dell'economia, tante difficoltà sta creando alle imprese del territorio. Come ci si organizza, come si reagisce, come si gestisce la situazione nuova di questi giorni? Ci si attiene ovviamente a quelle che sono le indicazioni, quindi alle attenzioni che Emanuela ha appena indicato. Molte fiere sono state riprogrammate, quindi posticipate, e si cerca ovviamente di avere relazioni di lavoro attraverso Skype. Ecco in questo caso ci si rende conto che tutta la tecnologia e la possibilità quindi di... si può portare avanti tanti lavori. Ovviamente è un momento difficile, bisogna trovare il modo per andare avanti. Ci sono tante situazioni nuove da gestire, dicevamo Elena Bulfone, anche insomma le associazioni si trovano in una situazione nuova e soprattutto c'è la necessità di agire velocemente, perché poi quando ci si prende cura degli altri, chiaramente c'è un senso di responsabilità grandissimo, c'è un'attenzione, ma non si possono abbandonare le persone ovviamente. Certo, le persone con disabilità, in questo caso l'autismo, sono persone che vanno accolte in riabilitazione. Nel nostro centro noi ci occupiamo di 92 persone, poi pensate che ci sono gli operatori, una trentina, poi ci sono i volontari, un'ottantina, ci sono tirocinanti, alternanza scuola lavoro. Quindi tutte le norme che ci sono state suggerite, noi le abbiamo attivate proprio per rendere sicuro la vita di questi bambini e di questi ragazzi, ma pensate anche che cosa comporta una cosa del genere con la chiusura delle scuole, quindi questi bambini speciali sono a casa e pertanto la difficoltà che hanno è proprio quella di non avere l'insegnante di sostegno o l'educatore. Quindi il doppio peso di queste mamme, per lo più, quindi donne, che si vedono il doppio compito di stare a casa ma anche di istruire i propri ragazzini o ragazzine, i bambini e bambine e questo dovrebbe far riflettere un attimo anche prendere dei provvedimenti, e so che si stava parlando anche a livello nazionale, di riconvertire ad esempio le educative scolastiche in quelle poi al domicilio. Ecco, ci aspettiamo che magari venga presa in considerazione anche questa parte qui perché sono tanti questi bambini, uno su ottanta, per cui capirete che è il problema molto grosso. E ovviamente in ore in cui si dovrà prendere delle decisioni importanti proprio per quanto riguarda la chiusura delle scuole, ecco, bisogna tener conto anche di queste situazioni che appunto diceva Elena Bulfone, non riguardano una percentuale bassissima di bambini. No, assolutamente, scuole chiuse, lezioni all'università ferme. Irene, proprio tu frequenti l'università di Udine, bisogna stare a casa, bisogna fare anche questo sforzo, no? Esattamente, ed è molto noioso perché tutti noi, bambini, ragazzi, gente che va all'università compresa, sono tutti a casa e sì, diciamo che dal mio punto di vista il tempo non passa e siamo tutti un po' preoccupati per questo virus che sta tanto influenzando le nostre vite e diciamo che è un grande problema, anche perché gli insegnanti non stanno lavorando e i ragazzi hanno tanto tempo libero che poi non si sa quando si ritornerà nelle aule. Si parlava anche in questi giorni della possibilità di lezioni a distanza, anche l'università di Udine si sta organizzando, quindi veramente bisogna ripensare anche la vita da studente. Sì, non solo quello, tra l'altro il tuo indirizzo è quello di turismo e sicuramente il turismo è il settore forse più colpito in Italia proprio da quello che sta accadendo. Allora, da studentessa, come stai vedendo anche questo fenomeno? Eh, diciamo che sì, vedo proprio che le persone sono bloccate, ferme, cioè anche gli aeroporti sono bloccati, quindi non del tutto, però molta gente sta a casa e rinuncia proprio al viaggio e quindi anche per questo motivo l'economia è ferma. Assolutamente. Ecco, insomma, lo diceva Alessandra prima, lezioni a distanza, professoressa Di Berte, come vi state organizzando al liceo Einstein di Cervignano su questo? Non solo al liceo Einstein, ovviamente tutte le istituzioni scolastiche si stanno attrezzando per la didattica a distanza. Il gruppo Spaggiare, che è il gruppo che gestisce registri elettronici, ha attivato le cosiddette aule virtuali. Io personalmente in questi giorni ho registrato le lezioni con dei file audio che poi spedisco alle classi attraverso WeTransfer. Però, come diceva prima l'Emanuele Adicenta, se la cifra dello sport è l'aggregazione, la cifra, secondo me, della didattica è proprio l'interazione con gli studenti. Quindi è diverso relazionarsi con gli studenti virtualmente piuttosto che in situazione. Vedremo come procede. Però, magari questo può essere un esperimento interessante per la scuola, per stare al passo coi tempi, la scuola tecnologica, la scuola a quattro punti... Ovviamente ci aspichiamo tutti che si possa tornare il più presto possibile sui banchi, che questa tecnologia sia utile avendo i ragazzi in classe, però magari di necessità virtù, voglio dire. Certo, per stare al passo coi tempi, ma io aggiungo anche poi per prepararsi probabilmente a una quotidianità che potrebbe cambiare. Quindi dobbiamo utilizzare strumenti diversi, al passo appunto con le esigenze di quello che sta accadendo. Utilizziamo insomma questo momento per fare anche delle riflessioni. Ci siamo scoperti tutti un po' più deboli e un po' più vulnerabili in questa situazione, no? E allora forse è arrivato il tempo di ripensare. Eh certo, assolutamente. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, poi torniamo in studio. Di nuovo insieme con Eletroshock, Sesso debole a chi? Il titolo della puntata di questa sera. Abbiamo iniziato con un occhio sull'attualità parlando di coronavirus. Adesso continuiamo insomma per raccontarvi le storie delle donne che abbiamo portato qui in studio. Poco prima della pubblicità abbiamo parlato con Carla Di Berte che abbiamo detto insomma nella nostra presentazione essere tra i migliori 20 insegnanti dell'Atlanta Italia Teacher Award che ha selezionato su... Ecco arriva l'applauso delle altre austri. Beh insomma, esageria. Diamo qualche numero anche per far capire. C'erano 600 progetti che sono stati presentati da tanti insegnanti in Italia e quello della professoressa Di Berte è stato uno dei 20 che è stato selezionato quindi insomma diciamo proprio nel gota degli insegnanti italiani. Questo è un bel risultato raggiunto. Prima di continuare a parlare con la nostra ospite le faremo vedere un filmato. Assolutamente. Perché abbiamo preparato una piccola... Sorpresa. Sì, diciamo che c'è un messaggio per la nostra ospite, no? Andiamo a vederlo. Vediamo chi lo ha mandato. Aiuto. Ciao, io sono Berenice. E io sono Katia. Lavoriamo alla Comunità 9 che è un centro diurno del Dipartimento di Salute Mentale gestito dalla Cooperativa Itaca e con la professoressa, la cara professoressa Carla Di Berte abbiamo realizzato molte cose, abbiamo collaborato a tantissime iniziative e con lei abbiamo ormai molti anni fa inaugurato dei percorsi che si chiamano SMS, Scuola Memoria Salute e insieme a studenti ormai di tanti istituti scolastici non solo quelli in cui lavora lei ma di Udine della Regione stiamo con i ragazzi, studenti, studentesse e con le persone con cui noi quotidianamente lavoriamo quindi persone con esperienza di disagio psichico e insieme parliamo, ragioniamo, ci confrontiamo, giochiamo sui temi della salute mentale, dei diritti con Carla è sempre stato un piacere immenso lavorare i ragazzi e le ragazze che hanno la fortuna di essere a scuola insieme a lei hanno sempre dimostrato una sensibilità e un'acutezza incredibili e cos'altro dire? brava Carla brava Carla ciao Carla ciao e insomma abbiamo voluto fare questa sorpresa a Carla Di Berzo ma intanto abbiamo cominciato così abbiamo cominciato così eh sì intanto insomma questa sorpresa e poi per spiegare anche che legame c'è con le persone che le hanno mandato questo messaggio e per raccontare anche nel dettaglio il suo progetto ma anche perché questi progetti sono frutto di un'interazione con varie realtà del territorio appunto a partire dal Dipartimento di Salute Mentale e quindi voglio in qualche modo sintetizzare questo progetto che è arrivato appunto tra i venti finalisti e sottolineare che senza quella collaborazione di tutte queste realtà non avrei ottenuto questo risultato detto questo il progetto si è realizzato in tre fasi una prima fase ha implicato delle lezioni sul disagio mentale quindi un modulo di psicologia clinica durante le ore curricolari di scienze umane poi c'è stata una seconda fase in questa seconda fase c'è stata appunto un'uscita presso il Dipartimento di Salute Mentale e i ragazzi sono stati accompagnati in una sorta di percorso della conoscenza della realtà precedente la legge Basaglia quindi hanno visitato l'ex manicomio psichiatrico e anche la conoscenza della realtà successiva all'introduzione della legge Basaglia e in questo senso hanno visitato la Comunità 9 che è un centro di urno che ospita soggetti con disagio psichico Berenice appunto è una dei referenti e i ragazzi appunto hanno avuto degli scambi e hanno discusso e hanno interagito con gli ospiti della Comunità 9 e infine ho immaginato di completare questo percorso con uno spettacolo teatrale che è andato in scena il 9 giugno del 2017 al Teatro Pasolini di Cervignano uno spettacolo che si è incardinato sulle testimonianze e sulle storie di vita storie di vita dei ragazzi che hanno presentato la loro esperienza degli operatori della salute mentale degli ospiti ognuno ha portato il suo contributo mi piace ricordare in particolare la lettura che ha fatto una mia studentessa di una storia di vita di una ragazza seguita dal centro di salute mentale di Tarcento la quale ha trovato anche nella scrittura un modo per elaborare la sua sofferenza e questa ragazza che ora lavora in Inghilterra ha detto se fossi nata 40 anni fa io ora sarei internata in un manicomio e non sarei guarita quindi prendendo spunto da questo brano voglio indicare brevemente le due finalità del progetto la prima finalità è stata quella di permettere ai ragazzi di superare la stigmatizzazione del disagio mentale comprendere che ciascuno di noi può incorrere in una sofferenza psicologica perché la nostra vita può essere costellata da criticità e la seconda finalità è però stata anche preventiva perché sempre più frequentemente si diffondono problematiche psicologiche fra gli adolescenti mi riferisco a disturbi legati alla depressione oppure a stati d'ansia oppure ad attacchi di panico quindi con questo tipo di progetto noi permettiamo anche ai ragazzi di conoscere le realtà territoriale per trovare se stessa e anche di accedere ai servizi territoriali qualora avessero bisogno sapere a chi chiedere aiuto questo è un'estrema sintesi grazie per averci raccontato lo hai raccontato proprio da professore con grande chiarezza arrivando al punto e lanciando anche dei messaggi molto chiari perché la scuola è didattica però la scuola è molto alto i bravi studenti hanno bisogno di bravi insegnanti la nostra scuola per fortuna è formata da tanti bravi insegnanti assolutamente sì io andrei da Manuela Di Centa perché in fondo anche lo sport è una scuola perché insomma ci sono delle regole importanti e facendo sport anche lì ci sono tanti insegnamenti mi viene da pensare a uno che secondo me è sottovalutato ma su quale varrebbe la pena di fare qualche riflessione come si superano le sconfitte come si superano le sconfitte è una cosa che sembra qualcosa da quale non si debba parlare in realtà è importantissimo Di Centa non ero molto abituata alla sconfitta però insomma è un bel insegnamento no, non è vero perché è vero che ho quasi una carriola di medaglie ma ne avrei potuto avere di più di più ma proprio perché si hanno tante medaglie poi magari il momento difficile è più difficile da affrontare Al di là delle tante ho poche medaglie ne basta una ne avanza casomai però innanzitutto mi piace dire perché la mia vita l'ho basata così e ancora adesso è così anche se non gareggio più però lo sport è vita cioè non si può separare la persona dalla parte sportiva dalla parte della vita la vita fa parte della persona quindi le cose si mettono insieme questo per dire qualche cosa mi è piaciuto anche molto questo progetto di Carla perché mi è venuto in mente che quando ero bambina quasi quasi mi prendevano per un po' fuori no fuori di testa un po' fuori dal normale diciamo ecco e quelle fuori dal normale un tempo non venivano aiutate venivano anche bruciate eh non volevo dirlo ma ci ho pensato a questo non volevo dirlo ma ci ho pensato come tutti noi penso che abbiamo pensato questo per dire che quando ero bambina volevo fare uno sport che mi dicevano che ero da maschio quindi il panorama si apre e già lì penso che parti da non sei caduta ma ti hanno messa per terra e sei lì no? annaspi nella terra e dici ma io devo stare nella terra? poi se miliardi di persone ti dicono non fare quella cosa perché non è per te non fare non andare avanti tutti quei no poi se ne trovi uno che ti dice fai quello che ti viene dal cuore fai quello che ti senti e io l'ho trovato il mio padre allora il mondo non ti ferma però la devi trovare quella persona e allora soprattutto perché donne soprattutto perché io bambina quando ero piccolina in uno sport che veniva appunto considerato da maschio per me questa è stata la partenza con una caduta nel senso con un blocco più che con una caduta è stata la partenza nel dire che cosa conta esattamente per me quali sono le cose importanti per me allora per me sono importanti le cose che vengono da dentro quello che mi danno soddisfazione quello che mi portano a dire alla fine della giornata che bello fare quella roba là no e allora ogni volta quando tu poi decidi che quello ti piace fare lo fai e io ho fatto lo sport questa disciplina molto pesante ma molto bella perché ti fa conoscere te stesso per la corazza che hai quindi per il corpo ma ti fa conoscere te stesso anche per la testa per i tuoi valori per i tuoi sentimenti per i tuoi ragionamenti per la tua forza e per la tua capacità di capire la debolezza esatto ed è lì che quando hai continuamente un atleta ha dei momenti in cui anche giornalisticamente parlando no dice ah adesso non chiamano più i giornalisti perché sei arrivato quarto no succede anche questo in questo mondo di sport quarto non va bene quarto è una sconfitta ma una sconfitta per chi quarto va benissimo poi bisogna puntare sempre più in alto ma quarto va benissimo allora tutti quei momenti in cui ti senti caduta per terra ma più che altro perché gli altri ti fanno sentire per terra sono in quei momenti in cui io personalmente ho elaborato strategie pazzesche per arrivare in cima e allora l'essere capace di trasformare i momenti di grande difficoltà certo devi avere sempre qualcuno che ti dà una mano soprattutto la famiglia nel mio caso qualche amica che ti vuole bene qualche amico che ti vuole bene un nonno che ti guarda da lontano una persona X che ti può dare magari una parola ma quella parola ti fa partire ti può far andare come una freccia verso l'obiettivo perché hai l'energia la forza del sapere che fai una cosa giusta e allora quel percorso tra prendere la botta pensare trovare qualcuno che ti dà una mano e tutto questo lavorare è sostanzialmente vivere la vita nel cercare di trasformare i momenti difficili in momenti meravigliosi e poi lo sport lo fa vedere perché io sono passata da un letto di ospedale dove pensavo di non fare più neanche sport perché ho avuto una malattia abbastanza pesante alla tiroide e lì ho costruito le mie vittorie più belle e allora quando uno mi diceva ma tutta questa energia dove la trovi la trovi nel trasformare quel grande momento di chiamiamola difficoltà ma parlandoci più chiari la difficoltà è sofferenza certo è grande sofferenza e nel mio caso come atleta e come persona perché non si scindono c'è stata una grande sofferenza una grandissima sofferenza e guarda caso nel momento della sofferenza sei sempre da solo sei sempre da sola però dopo trovi quella persona e ne basta una che ti fa capire che ti vuole bene che crede in te e che devi andare avanti e quindi parti e di nuovo parti con un'energia che chiaramente è carica è carica di tutta quella forza che viene a volte anche dal niente io vengo dalla carnia lì più che patate e fagioli però ragazzi con le patate e fagioli si va ovunque perché quelle crescono dappertutto e quindi ecco queste forze che a volte vengono viste anche non al positivo ma magari un po' così sì no in senso denigrante no sì ma tu da dove vi un po' di puzza sotto il naso ma la puzza sotto il naso è bella importante no vengo da quelle radici dove sembra che non ci sia niente ma poi c'è tutto quello che conta nella vita soprattutto è tutto quello che serve per i nostri ragazzi da prendere appunti e insomma costruire la propria vita su queste parole ricordare da ricordare assolutamente e chissà che non ci sia un messaggio anche per Manuela Vicenta ma lo scopriamo dopo la pubblicità oddio e allora c'eravamo lasciati con una domanda prima della pubblicità ci sarà un messaggio per Manuela Vicenta? c'è un messaggio anche per Manuela Vicenta vediamolo in occasione della festa della donna volevamo fare una sorpresa a nostra sorella Manuela ciao Manuela volevamo farti gli auguri io Andrea esatto presente auguri per questa per la festa della donna quindi tu rappresenti le donne sei una grande donna nello sport nella vita eccetera eccetera quindi noi siamo felici di farti questi auguri e concludiamo non solo a lei ma a tutte le donne e auguri a voi donne troppo forti e questo è il mio piccolo Giorgio e Andrea il mio piccoletto il rompiscatolo di quello vecchio Andrea sono meravigliosi e com'è la vita di una sorella con due fratelli così? noi abbiamo iniziato per esempio con due fratelli così cosa potevamo fare? le olimpiadi in casa ma in senso che da bambini facevamo le olimpiadi chiaramente io ero sempre in paesi scandivani perché li volevo vincere è chiaro però però alla fine Andrea era molto bravo vinceva anche lui e beh devo dire che io ho una famiglia meravigliosa poi lì c'è il papà che ha 93 anni che non si vede però è il migliore di tutti con una mamma meravigliosa che sono stati la mia forza sono la mia forza sono la mia radice perché si litiga sempre ma quello fa parte del carattere competitivo ci mancherebbe altro il nonno dice 93 anni sto facendo i metti sotto sto facendo i metti sotto però la forza della famiglia è veramente sai che c'è una grande radice e per me che ho girato il mondo sono stata tanto in giro le gare gli allenamenti in paesi diversi ho vissuto tanto in Scandinavia quando sai che comunque a casa c'è quella patata quel fagiolo ci si torna volentieri no sai che c'è sempre il tuo posto e sai dove stai e sai cosa sei che c'è sempre un posto per te è un posto bello e dove si sta molto bene sai che sei quello sai nel bene o nel male sai che sei quello sei quelle montagne sei quella gente sei quei ragionamenti e poi come ognuno di noi cerchi di migliorare cerchi di portare cerchi di dare cerchi di raccogliere io così in senso un po' folcloristico immaginavo ogni volta che tornavo dalle gare anche se non avevo vinto niente però avevo portato un'esperienza che già quello è vincere tanto e allora immaginavo come un sacco che portavo a casa e dopo e poi portavo a casa come accumulare e portare qualche ricchezza che non era materiale ma anche qualche cosa di vissuto o qualche cosa che poteva poi essere condiviso con le persone con le quali io vivevo o con la comunità di Paluzza nella quale io vivevo e questo è stato per me ancora adesso è così perché spesso sono via anche come dirigente non più come atleta però il fatto di tornare e sentirti legato a quel territorio ti dà anche la possibilità di poter essere libero di vivere in tutto il mondo e questo è una libertà molto grande molto importante magari con qualche difficoltà da qualche parte in Russia in Cina però puoi vivere dappertutto perché sai chi sei da dove vieni e a chi appartieni eccola là quella era Norvegia a proposito dei paesi scandinavi e c'è un'altra storia di famiglia che è quella appunto della famiglia nonino così abbiamo il primo punto di contatto e poi ovviamente anche qui dalle patate ai fagioli a un altro prodotto della tradizione che poi è stato valorizzato nel migliore dei modi però questo per dire che si parte proprio dalle basi la famiglia dalla terra no e da lì poi insomma sta alle famiglie a saper costruire qualcosa mi viene in mente padre Davide Turoldo era l'acqua di fuoco che ti aiutava a bruciare la fatica la forza della famiglia parliamo un attimino di questo insomma la famiglia la famiglia è una grande forza è anche una cosa molto complicata ovviamente essere gruppo ti dà innanzitutto molte energie e oggi fossimo anche di più adesso si parla di contenere gli spostamenti in realtà portando portando nel mondo i nostri genitori Giannola e Benito sono riusciti a portare la grappa che parlava diceva prima Manuela in realtà appunto nei salotti in città la vedevano come un qualche cosa da relegare in cucina e in questo nostra madre innamorata della grappa del lavoro che faceva il papà perché stava con lui in distilleria diceva ma perché perché non possiamo competere con i grandi distillati internazionali e da lì quindi il desiderio di portare di fare la grappa più buona del mondo quindi sempre un sempre mirare molto molto lontano e in questo la storia della nostra famiglia è una storia molto importante di donne perché mi viene in mente sia la nonna da parte del paterna quindi la nonna Silvia che ha mandato avanti la distilleria da sola rimasta vedova in una situazione molto difficile ed è riuscita a portare avanti anzi addirittura aveva aveva in casa da diciamo da occuparsi non solo dei suoi figli che erano piccoli ma anche delle sorelle del marito che poi sono andate spose e sono uscite diciamo di casa e dall'altra parte la mamma della mamma maestra amatissima una donna che io peraltro quando ero bambina lei amava molto stare ovviamente con i bambini aveva passato tutta la vita ricordava sempre medaglia d'oro della scuola e chiedeva eravamo in più nipoti chi voleva fare i compiti con lei e io curiosamente anche se non ero la sua amata nipote perché aveva altre preferenze curiosamente andavo sempre perché così capivo perché imparavo mi faceva a leggere a voce alta e soprattutto leggere ecco per me è stato sempre molto importante curiosa la conoscenza la lettura e quindi nella nostra famiglia il papà e la mamma sono stati in questo veramente se pensiamo che hanno istituito il premio Nonino Resit Down nel 1975 quindi Slow Food di dieci anni più tardi e quindi hanno portato avanti hanno supportato la cultura contadina che è la cultura che sta dietro la nostra storia con grandissimo orgoglio e sono riusciti a portarla senza snaturarla questa è la cosa che a me personalmente ha sempre da grande quando ho elaborato in maniera consapevole sono riusciti a trasformare la grappa da Cenerento alla Regina dei Distillati è proprio del mese scorso a San Francisco la prima distilleria italiana premiata è una distilleria di grappa in competizione c'erano rum whisky cognac vodka quindi è stata una grandissima soddisfazione e il papà e la mamma in questo noi Cristina Elisabetta ed io adesso si è unita anche mia nipote Francesca tutte donne come vedi come dicevamo prima quindi famiglia e forza in questo senso scusami 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 devono mandare in onda qualcosa da nella regia la domanda la faccio dopo eh sì mamma mia vediamo un po' c'è 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 Antonella ha un carattere molto molto forte una grandissima personalità che ha dimostrato fin da bambina molto appassionata di cultura molto molto attenta a ciò che accade nel mondo ciò che però più mi colpisce in lei è questa sua voglia sempre di approfondire in maniera assoluta gli argomenti che le stanno a cuore è una donna estremamente passionale che quando ama ama incondizionatamente con grande generosità è anche molto sensibile a farsi portavoce delle esigenze delle persone più deboli e questo era il messaggio di Cristina mamma mia grazie volevo chiedere semplicemente se lei è mancato un fratello maschio allora più che un fratello noi abbiamo un meraviglioso cugino parlavo prima della nonna e da parte della famiglia della mamma e questo cugino Fabio è andato viveva per Cotto è andato a vivere negli Stati Uniti con sua sorella con la famiglia e rimane sempre nel cuore perché bello intelligente simpatico generoso e ancora adesso quando ci troviamo è come se non ci fossimo mai lasciati è il fratello ideale tutte innamorate probabilmente di lui e sinceramente è mancato perché è andato a vivere negli Stati Uniti quando noi eravamo ragazzine adesso è molto più forse più facile per le ragazze e per i ragazzi scambiarsi anche dal punto di vista che so nell'adolescenza ci sono grandi cambiamenti ecco a noi questo a me personalmente è mancato perché abbiamo avuto sempre una visione molto femminile del mondo e quindi anche nello scambio interpersonale con l'altra con l'altra metà del cielo è sempre stato l'abbiamo scoperto negli anni e indubbiamente poi crescendo si impari e vivi soprattutto vivi e la vita appunto io sono in questo molto vivo intensamente ed è quello che i nostri genitori credo ci hanno insegnato quindi quando credi in qualcosa lo devi portare lo devi difendere lo devi amare oserei dire ecco è un grande amore la grappa nella nostra famiglia è un grande amore allora voi lavorate insieme vi vedete tutti i giorni però abbiamo visto un'antonella commossa dal messaggio di Cristina perché poi non si deve mai dare niente per scontato no? è così come in ogni famiglia ci saranno dei momenti in cui si discute magari anche animatamente alla base rimane no? sempre quel quel legame fortissimo e quell'affetto che poi inevitabilmente fa la differenza insomma no? vi ringrazio veramente di cuore sempre che una bellissima sorpresa allora eh sì andiamo in pubblicità che dici? eh poi ci sono altre sorprese eh già a tra poco eccoci nuovamente insieme con Elettroshock allora riparto da Elena Bulfone e ne approfittiamo per raccontare anche una storia importante che è quella dell'associazione Progetto Autismo FVG che proprio in tempi recenti è diventata fondazione che tanto sta facendo nel territorio e che in pochissimi anni è riuscita a raggiungere obiettivi davvero molto importanti qual è il senso? è proprio l'aiuto concreto alle famiglie perché insomma è iniziata come una storia personale con tutte le difficoltà del caso ma non è rimasta una battaglia personale è diventata una battaglia eh per altre famiglie e poi con altre famiglie vogliamo un po' eh raccontare come sono andate le cose beh come diceva prima la Manuela di Centa eh nessuno si salva da solo è un bellissimo libro di Margaret Mazzantini e devo dire che eh questa è l'idea che mi ha sempre pervaso come mamma di Alessandro che ha 23 anni che è un ragazzo con autismo che oggi è al centro di fondazione Progetto Autismo e non mi rassegnavo non mi rassegnavo a non avere niente perché Alessandro non aveva insegnanti in grado di gestire il suo autismo non aveva degli educatori in grado di aiutarlo nel suo percorso educativo non aveva nulla noi ci siamo presi uno staff dall'Irlanda l'abbiamo portato noi mamme sto parlando perché ci siamo unite ci siamo messe insieme e abbiamo portato questo staff che è stato quello che ha gettato le basi di quella che è oggi la nostra grande casa 2700 metri quadri più 5000 di scoperto abbiamo questi 92 fra bambinetti piccoli dai due anni fino agli adulti che assistiamo e in tutto dalla riabilitazione dei piccoli fino all'accoglimento degli adolescenti con tutte le loro problematiche quindi anche le problematiche di educazione sessuale prima sentivo la professoressa l'importanza anche dell'inclusione quindi l'importanza di connettersi con le scuole del territorio noi abbiamo oltre 10 scuole del territorio che abbiamo in alternanza scuola lavoro l'inclusione fra i ragazzi l'offrire loro dei laboratori di vita che sono dei laboratori che vanno dall'arte alle attività lavorative alle attività sportive perché lo sport deve far parte anche della vita delle nostre persone noi abbiamo un progetto acquabile che ha 120 persone da Trieste fino alla piscina di Trieste la piscina di Monfalcone e quella di Udine dell'Unione Nuoto e devo dire che negli anni abbiamo costruito un mondo un mondo che per tante famiglie è un ancora di salvezza pensate che purtroppo ancora oggi in Friuli, Venezia e Giulia sono pochissimi punti di aiuto per le persone con autismo e le loro famiglie e gli offriamo tutto una mano tesa una spalla su cui piangere abbiamo delle sale proprio dedicate addirittura adesso abbiamo costruito una palestra per le mamme e i papà anche e quando vengono ad accompagnare i bambini loro possono svolgere attività sportive stare insieme chiacchierare prendersi un caffè perché l'autismo non investe solo la persona ma investe tutta la famiglia ed è tutta la famiglia che va aiutata e lasciatemi dire soprattutto le mamme car giver chi sono i car giver sono quasi sempre le mamme che devono rinunciare alla loro attività lavorativa che devono rinunciare ai loro sogni il loro sogno è il proprio figlio e noi vogliamo che questi bambini diventino degli uomini speciali e donne speciali e questo è l'obiettivo che abbiamo nella nostra associazione Sandro Penna in una semplice poesia dice guai a chi è speciale nella normalità le persone devono essere speciali davvero e noi abbiamo creato un posto unico e facciamo diventare unici questi ragazzi valorizzando le loro potenzialità spesso vengono visti come un peso un orpello un qualche cosa da anche mettere nascosto da non far vedere agli altri e noi invece vogliamo valorizzarli abbiamo un atelier d'arte dipingono fanno mosaico abbiamo adesso mi hanno appena comunicato che abbiamo vinto un progetto proprio per la cultura in regione dove costruiremo delle installazioni tessili proprio insieme con i ragazzi queste sono delle sfide sono delle sfide che nessuno prende ma che noi vogliamo prendere vogliamo vincere insieme con i nostri ragazzi la sfida è fondamentale e soprattutto l'innovazione è fondamentale perché si può innovare non solo nell'impresa quindi nel creare dei prodotti ma anche nel creare delle persone di grande valore e la nostra è un'impresa sociale ecco tra l'altro abbiamo visto nelle immagini questa casa speciale la home special home di progetto autismo dove abbiamo visto c'è una palestra ci sono degli spazi ci sono delle stanze dedicate ai ragazzi ecco quello che oggi in realtà è stato per tantissimo tempo e per tantissime famiglie un vero e proprio sogno pensare di poter affidare a questa struttura e ai suoi operatori anche solamente per una notte un bambino o un ragazzo davvero era un sogno per le famiglie che si è realizzato si è realizzato grazie alla forza e alla determinazione di Elena e di tanti volontari che hanno costruito materialmente questa casa quindi questo è un risultato importante ma al di là di questo c'era perché mancava un rapporto da costruire con le istituzioni sedersi sui tavoli delle istituzioni per creare qualcosa insieme per andare a colmare il vuoto che evidentemente c'era questo è stato un altro sforzo altrettanto importante certo devo dire come ha detto molte volte anche il sindaco di Tavagnacco che è anche un amico Moreno Lirutti che non sempre noi siamo stati aiutati dalle istituzioni soprattutto all'inizio c'era qualcuno che mi diceva signora lei deve rallentare perché noi non possiamo stare dietro a queste sue attività e io fra me pensavo ma il mio orologio biologico perché io ho 54 anni non lo nascondo e quindi il mio orologio biologico fa tic tac quando potrò quanto potrò aspettare ancora e allora ci siamo rimboccati le maniche inizialmente eravamo un gruppetto di mamme però poi ci si sono aggregati i nostri mariti e devo dire che la società si fonda sulla collaborazione è fondamentale la collaborazione senza in particolare mio marito che devo ringraziare Enrico io non avrei potuto fare tante cose perché io sono la parte creativa ma lui è l'ufficiale degli alpini l'inquadrato colui che diciamo riesce a come dire rendere concrete e anche a dare un ordine quanto è fondamentale essere complementare assolutamente assolutamente quindi ecco io credo fortemente nella collaborazione e nella rete e quindi io oggi sono felicissima perché con le istituzioni abbiamo ormai un rapporto consolidato e stanno emergendo proprio i punti di contatto e soprattutto insieme si riesce ad aiutare tantissime persone e permettetemi un'altra cosa insieme e gratuitamente perché ancora oggi ci sono tante persone che sul sociale magari sugli aspetti sanitari guadagnano e allora con il guadagno e con il voler arricchirsi si frenano i grandi progetti mentre invece la gratuità ti permette una libertà e una capacità d'azione che sono ineguagliabili e questo è quello che stiamo cercando di fare e io spero sempre meglio perché c'è tantissimo ancora da fare e tanto dobbiamo ancora costruire per queste persone e anche questa è sicuramente un'avventura un progetto da medaglia d'oro visto che insomma ne abbiamo parlato prima è curioso di sapere se c'è un messaggio anche per lei? sì insomma ecco allora vediamo vediamo c'è c'è comunque oddio se dobbiamo parlare di te Elena pensavo di farlo qui proprio a progetto autismo guardando i quadri i lavori che fanno i bambini le cose che hai fatto sono incredibili sono incredibili perché ci hai messo la tua consueta forza la tua consueta energia quello che fai quello che fai per tutti quanti è incredibile il fatto che lo debba dire io è curioso ho accettato l'invito di fare di fare questo clip per testimoniare quanto amore hai portato a progetto autismo ai ragazzi come Ale come il nostro Ale quanto amore riservi comunque a tutti anche la nostra Martina quindi grazie da parte di progetto autismo e grazie da parte mia comunque ti conosciamo e questo era l'alpino questo era Enrico e insomma è un bellissimo messaggio anche questo eh sì io sono commossa perché credetemi è molto dura noi abbiamo tutti un nostro lavoro io sono insegnante a part time mio marito appunto lavora negli alpini è molto dura portare avanti l'attività dell'associazione oro a fondazione e le notte insonni del proprio figlio la terapia di riabilitazione le continue sollecitazioni che questi ragazzi ti portano però io lavoro con grande gioia lavoro con grande gioia perché vedo le famiglie rinascere i bambini rifiorire e gli adulti avere una ragione di vita e questo è bellissimo non lo do mai a vedere questo lato mio scusami Alessandra se sono un po' commossa però non è semplice ci vuole una grande forza e soprattutto un grande fisico un fisico bestiale per dirla con la Manuela di Centa e quindi dalle mie 4-5 ore di sonno a notte ecco mi permetto di dire che non faccio molto sport ma mi perdonerete c'ho un altro sport che è molto più impegnativo Elena è assolutamente una forza della natura e insomma mi piaceva portarla qui in studio questa sera per raccontare questa storia e per far capire che anche nei momenti in cui ci chiediamo ma chi me lo fa fare ma non ce la farò mai ecco ci si può riuscire si possono ottenere risultati importantissimi non solo per se stessi ma anche per gli altri poi proprio dalla responsabilità che sia anche per gli altri nasce ulteriore forza per andare avanti io mi permetto di dire una cosa per l'autismo c'è ancora pochissimo vi spendo una parola io sono insegnante e parlo solo dei curricoli semplificati non esistono in Italia sto parlando dei veri e propri curricoli in linguaggio semplice adatti a persone non solo con autismo ma con ritardo mentale per esempio con disabilità intellettiva esistono dei testi che non hanno quella capacità di incidere sugli apprendimenti che io vorrei il mio sogno è quello di fare di un progetto europeo che noi stiamo seguendo con grande interesse con ben 14 partner nel simple una app per costruire una cioè uno strumento che riesce a semplificare i testi in maniera veloce immediata che può essere utile proprio per gli insegnanti per dargli quella marcia in più per poter rendere partecipi i nostri figli della vita della scuola che poi è la vita del mondo perché la scuola ti apre al mondo e ci sono tantissime cose ancora da fare e sappiate che ci vuole tanta creatività e i ragazzi giovani dell'alternanza scuola-lavoro e dei tirocini universitari ci stanno aiutando in una maniera enorme e quello su cui dobbiamo puntare i giovani guidati dalla saggezza di alcuni diciamo persone di una certa età che non sono solo io dei senior ecco e da persone di diversi ambiti dalle imprese alla scuola al mondo diciamo così del lavoro in vari settori ma anche io dico anche dalle strutture della rete sociale i comuni la regione e tutti coloro che nelle aziende sanitarie hanno dei compiti importanti e che forse magari vedono solo dei binari ma a volte bisogna guardare oltre bisogna vedere questo arcobaleno di colori che può essere veramente implementato in maniera meravigliosa se guardiamo oltre le regole e su queste bellissime parole ci fermiamo per la pubblicità tra poco di nuovo in diretta con elettroshock abbiamo sentito tante storie di donne di donne vincenti di donne che hanno trovato anche delle difficoltà nella loro vita ma che poi le hanno sapute superare e alla grande ma ci sono poi anche i giovani con i loro sogni le giovani ragazze che insomma pensano sperano insomma si immaginano una vita insomma ricca di soddisfazioni anche dal punto di vista del talento e noi proprio qui in questi studi Alessandra Friult Talent insomma abbiamo dato vita a questo talent di tanti ragazzi più o meno giovani a trionfare però è stata una giovanissima Chiara Di Santo 17enne di Fontana Freda con una voce meravigliosa allora andiamo a risentirla e a scoprire qualcosa di più di lei poi rientriamo in studio 99 punti vince la prima edizione di Friult Talent e un applauso più forte per Chiara Di Santo eccola qui grazie io vi faccio un applauso grazie a tutti chiudiamo qui come saprei riuscirci io ancora noi il mio approccio alla musica è iniziato davvero quando ero piccolissima in quanto la musica è sempre stata qualcosa dentro di me e poi fortunatamente ho avuto e ho due genitori che mi hanno sempre appoggiato e spronato e mi hanno seguito in questo percorso quindi sono sempre stata invogliata a continuare nonostante le prime volte una nota non la prendevo ecco e dopodiché il mio inizio di studio del canto effettivamente è iniziato nelle medie con l'inizio delle scuole medie con l'aiuto di un professore a cui devo davvero tanto che mi ha notata e mi ha mi ha aiutata e supportata e ha detto vai inizia inizia a studiare e infatti ho iniziato a prendere lezioni di canto in una scuola di musica a Pordenone dopodiché con il dover scegliere quale liceo frequentare e decisi di provare a iscrivermi al liceo musicale di Conegliano il problema si presentò quando per questo liceo dovevo preparare degli esami di solfeggio io solfeggio non l'avevo mai fatto però insomma bene o male in qualche modo io sono entrata al liceo infatti è il liceo che frequento e con l'inizio del liceo il mio rapporto con la musica è passato da così a così perché sono immersa totalmente nel mondo della musica e questa cosa appunto mi ha fatto avvicinare tanto di più ad essa e a crescere musicalmente ecco Friuli Talent insomma che esperienza è stata? Allora è iniziato tutto molto per caso in quanto mi è uscito un giorno un annuncio appunto di questo talent che si sarebbe tenuto sul canale Telefriuli e ho detto proviamo senza esitare ho inviato il mio video e lo hanno accolto davvero con grande entusiasmo e nulla ho fatto la prima puntata che è andata davvero gran bene e diciamo che è stata un'esperienza totalmente diversa perché non avevo mai cantato di fronte a una telecamera ho sempre cantato davanti a persone quindi l'approccio è molto diverso inizialmente è stato quasi destabilizzante perché appunto non c'era nessuno davanti a me a parte appunto i giudici e quindi è stata una crescita anche personale questa esperienza ecco quanto tempo dedichi alla tua voce ogni giorno? allora frequentando liceo musicale il canto è una materia e quindi devo esercitarmi come una materia normale come italiano matematica eccetera e quindi si studio studio tanto ore un paio d'ore al giorno si un paio d'ore anche perché io studio sia canto classico che moderno e quindi un paio d'ore al giorno si questo per dire che non basta il talento che deve naturalmente esserci però insomma va rafforzato con lo studio nella musica l'esercitazione è essenziale davvero devi metterti là e soprattutto non sia tutto pronto all'inizio anzi tantissime volte ti scoraggi perché credi di non farcela però dipende anche dai giorni da quanto sei stanco da quanto insomma è andata bene la giornata o no però l'importante è crederci fino in fondo e sbatterci la testa mille volte Chiara Di Santo una bella storia una bella storia davvero e scatta l'applauso in studio è bello avere dei sogni e soprattutto avere un talento e coltivarlo è assolutamente sì e per rimanere negli studi di Telefriuli è proprio qui che si è guadagnata la fascia di Miss Telefriuli 2020 Irene e allora ti chiedo subito intanto che effetto fa indossare questa fascia beh un bel effetto diciamo che non avrei mai pensato di poter indossare questa fascia però evidentemente ci sono riuscita e per me è un grande traguardo anche perché sin da quando ero piccola io sono sempre stata un po' insicura di me un po' per il mio passato un po' perché devo affrontare ogni giorno una malattia che vabbè è molto più gestibile di altre malattie sicuramente più gravi io sono diabetica però appunto questa malattia che io ho e che mi porto dietro dall'età di tre anni mi ha sempre come posso dire un po' destabilizzata e messa in difficoltà anche a scuola e adesso che ho sì ho vinto questa prima fascia le prime selezioni diciamo che mi ha motivato tanto e penso di poter andare avanti quindi un risultato ancora più importante il fatto di decidere di mettersi alla prova di affrontare insomma questa situazione con determinazione e convinzione poi aiuta ad andare avanti aiuta a crescere che cosa ti ha spinto a partecipare a un concorso di bellezza che poi non è un concorso di bellezza qualunque è il concorso di Miss Italia perché questa fascia di Miss Telefriuli ecco ti dà diritto ad accedere direttamente alle finali regionali di Miss Italia allora allora diciamo che come ho detto prima io sono sempre stata un po' insicura però mia mamma che è la donna più importante della mia vita mi ha sempre spinta e mi ha sempre spronata a voler fare a voler provare lei ha sempre detto che io posso andare tanto in là facendo quello che mi piace diciamo che a me piace tanto la televisione e il mondo della moda solamente che appunto sono sempre stata un po' titubante nel buttarmi o meno e proprio una settimana prima delle prime selezioni io mi sono iscritta al concorso e senza pensare troppo mi sono buttata e le prime selezioni le ho passate e quelle volte proprio fare quel primo passo che è la cosa complicata uno pensa di trovare il buio il vuoto invece poi si scopre che invece c'è il pavimento si può camminare andare lontano assolutamente sì intanto abbiamo visto anche alcune immagini che si riferiscono proprio alla serata eccola qui andata in onda in diretta per la conduzione di Michele Cupitò insomma ecco qui vediamo vediamo sfilare Irene e insomma dopo il tuo racconto diamo anche un significato ancora più importante a questa sfilata a questo desiderio di mettersi alla prova e di farlo tra l'altro in televisione in diretta televisiva quindi a questo a prescindere dalla fascia che oggi indossi è sicuramente stato un risultato molto importante che hai portato a casa beh sì assolutamente io sì non me l'aspettavo in realtà però poi sì quando hanno nominato il mio numero che poi alla fine rappresentava il mio nome diciamo che ho proprio pensato ce la posso fare posso andare avanti è stato come uno sblocco proprio per per poter andare avanti ci fa piacere che questo sia successo qui a Telefriuli ecco il momento in cui Susanna Akstep che è l'ultima corregionale ad aver indossato la fascia di Miss Italia ha appunto dato a te la fascia insomma questo momento di gioia che oggi leggiamo anche con con la tua interpretazione ci fa davvero piacere che magari questo possa essere un nuovo inizio e che questo nuovo inizio parta proprio da qui da Telefriuli e naturalmente noi ti facciamo l'imbocca l'u perché questo è un inizio a prescindere ecco una svolta anche perché il nome di Telefriuli insomma in quella fascia è una svolta assolutamente anche perché Miss Telefriuli 2019 poi diciamolo è arrivata alla finale nazionale di Miss Italia a Jesolo naturalmente incrociamo le dita ma insomma ti auguriamo di fare se possibile ancora meglio ci fermiamo per la pubblicità tra poco eccoci nuovamente in studio con Eletroshock abbiamo raccontato prima della pubblicità la storia di Irene Miss Telefriuli 2020 e siccome Irene non sei da meno delle altre ospiti di questa sera c'è un messaggio anche per te vediamo devo pensare perché Irene speciale mi vengono in mente una maria di risposte perché è una ragazza forte indipendente intelligente una buona amica anzi per me è la migliore ma una cosa che mi ha sempre colpito di Irene è il fatto che è coraggiosa il suo coraggio che mette nel mettersi alla prova nel cambiare nel partire ma anche il coraggio di ammettere che non si sta bene e che si vuole tornare a casa è una cosa che ammiro molto perché ritengo che noi donne dovremo affrontare con questo coraggio ogni giornata che ci troviamo davanti nonostante tutte le difficoltà che posso aver avuto non ho mai trovato una ragazza con tanta forza di spirito Irene sei bellissima ma sappi che sei molto più di questo ti voglio bene delle belle parole che hanno fatto commuovere sono delle parole bellissime di un'amica che evidentemente sa tanto e conosce tanto di Irene quindi più di chiunque altro può insomma condividere questo momento io non chiederei niente adesso a Irene le lasciamo vivere un attimo questo momento perché insomma sentire da parte di un'amica delle parole così penso che sia sì molto bello però insomma è un'amica commovente e forte io tornerei dalla nostra insegnante perché adesso siamo arrivati un po' al giro finale insomma abbiamo raccontato diverse storie questa sera e insomma abbiamo vissuto anche dei momenti emozionanti ecco dovesse sintetizzare un po' ai ragazzi di una sua classe tirare un po' le somme di questa serata che messaggio darebbe ai ragazzi il messaggio è quello di sviluppare quella che Goleman chiama l'intelligenza emotiva io ho ascoltato queste storie le ho ascoltate con partecipazione non conoscevo queste donne sono felice di averle cioè non le conoscevo personalmente ovviamente le conoscevo di fame e sono felice di averle conosciute e l'intelligenza emotiva è la capacità ovviamente di leggere e interpretare le proprie emozioni ma di sapere anche leggere e interpretare le emozioni altrui e credo che sia una dote fondamentale per far sì che i nostri studenti diventino anche dei buoni cittadini si parla tanto di educazione alla cittadinanza l'educazione alla cittadinanza in fondo è questo sviluppare intelligenza emotiva intelligenza contestuale ecco grazie allora professoressa Carla Di Berti anche scrittrice perché insomma ha un libro anche che l'ha portato sì io approfitto dal momento che mi sembra che il light motiva si è un testo di narrativa il light motiv di stasera è la famiglia e gli affetti questo testo che si chiama il nodo nel cerchio edito da KV parla di una donna si chiama Anna che si ritira per alcuni giorni in un luogo isolato in montagna per far luce su di sé e sulle proprie inquietudi esistenziali poi c'è una trama che ovviamente lascio al lettore volevo solo sottolineare una cosa per riagganciarmi appunto alla tematica di stasera il professore Duccio Di Emetrio che mi ha fatto dono del convento e quarta di copertina dice che questo testo parla della morte della vecchiaia della solitudine ma anche della rinascita quindi il messaggio che do anche ai ragazzi è quello e credo che tutte le storie l'abbiano confermato e soprattutto l'ha confermato Emanuele Vicenta quando diceva se io conosco le mie debolezze ho anche la potenzialità per poi superarle quindi questa forse è la regola della vita che ci permette appunto di proseguire nel nostro destino esistenziale e quindi spero che in questo testo chi lo vorrà leggere possa trovare riflessi parti di sé come in una sala degli specchi come forse è accaduto stasera qui tra noi grazie storie di donne una donna protagonista anche di questo libro lo diceva prima Elena Bulfone quanto importante è l'appoggio delle istituzioni allora noi abbiamo chiesto a Guglielmina Cucci che è assessore da pari opportunità del comune di Pordenone ma è stata recentemente eletta al tavolo ANCI proprio per rappresentare le parità di genere ecco che cosa le istituzioni stanno facendo su questa tematica sentiamo siamo con Guglielmina Cucci recentemente nominata coordinatrice per il tavolo regionale dell'ANCI FVG per le politiche di genere e assessora anche alle pari opportunità del comune di Pordenone intanto con questo nuovo ruolo quali sono le intenzioni che avete proprio con il coinvolgimento dei comuni della regione beh assolutamente di estendere ovviamente l'attenzione e l'impegno del comune di Pordenone e soprattutto l'esperienza concreta che qui sul territorio pordenonese in questi anni è stata svolta ed ha avuto una ricaduta molto importante tant'è che il comune di Pordenone è stato individuato proprio dall'ANCI per fare da coordinamento a questo nuovo tavolo sul tema delle politiche della parità di genere un lavoro che è stato svolto in maniera trasversale e che si è concretizzato proprio nel protocollo dei 50 comuni un protocollo che ricordo è stato voluto proprio dall'assessorato alle pari e opportunità del comune di Pordenone ed è stato condiviso in maniera trasversale da tutti i comuni in questi anni siamo riusciti a mantenere l'attenzione sempre molto alta su questo tema abbiamo condiviso buone pratiche abbiamo condiviso politiche strategie iniziative e attività e progetti e anche risorse devo dire risorse che ora a gran voce chiediamo proprio per consentirci di lavorare sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione anche a livello regionale su tutti i temi che riguardano le discriminazioni femminili e l'eliminazione di ogni forma di stereotipi per affermare anzi riaffermare con grande forza quelli che sono i valori i talenti delle donne e anche l'opportunità per tutte noi di poter lavorare e liberamente dimostrare ciò che siamo contro la violenza sulle donne avete fatto molto riuscendo a coinvolgere anche gli uomini sì tant'è che qui a Pordenone sono nati altri protocolli importanti come carta di Pordenone il protocollo contro le molestie il protocollo della prefettura che in questi giorni diciamo in questo periodo si sta aggiornando con il contributo di tutti gli enti le istituzioni le forze dell'ordine che sono protagoniste contro la violenza sulle donne e poi voglio ricordare appunto le associazioni le associazioni in primis Voce Donna perché è un'associazione che è presente sul territorio da oltre 20 anni e l'esperienza molto positiva dell'associazione degli uomini e quindi uomini in prima persona contro la violenza sulle donne credo che questo sia un punto di partenza molto importante un bagaglio di esperienze che sicuramente dovrà essere esportato come approccio anche a livello regionale rientriamo in studio per una battuta velocissima super veloce con le nostre ospiti Irene abbiamo sentito il messaggio della tua amica Catalina rapidissimamente cosa vuoi dirle ti ringrazio io ti voglio un bene dell'anima e nonostante siamo lontane perché tu studi a Milano io sono qua e ci vediamo molto poco credimi io ti penso ogni giorno e come ben tutti sanno le persone che ci siamo vicine io mi sono iscritta al concorso con te tu eri al mio fianco e so che mi porterei avanti fino alla fine in bocca al lupo Irene davvero per tutto davvero per tutto allora rapidamente Elena per chiudere una battuta finale sì io dico che nel genere femminile abita la speranza e quando la speranza è abitata il futuro è sereno è tranquillo c'è la volontà di arrivare a costruire le donne costruiscono e oggi ne abbiamo avuto un esempio in vari ambiti continuiamo a costruire insieme Antonella Nonino beh io vorrei ringraziarti perché è stata una serata veramente speciale sapevo che sei una donna veramente speciale la direttrice bellissima è una serata di grande crescita anche personale riflessione una grandissima gioia per me personale per mia sorella e quindi grazie 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 Antonella davvero chiudiamo con Manuela Dicenta lo sprint finale ascoltando tutte noi e condividendo con tutte le persone anche da casa questa serata mi viene da pensare un po' con il cuore gonfio così anche un po' di tristezza e un po' di dolore però va pensato a quelle donne che soffrono e noi siamo qui portando i nostri momenti di bellezza dicendo loro che abbiamo sofferto anche noi magari in modo diverso ma dando quella solidarietà e dicendo loro che se trovano una persona prendere quella mano e da quella sofferenza qualsiasi essa sia si può uscire grazie 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 a Manuela Dicenta grazie a Antonella Nonino Elena Bulfone grazie a Direnea grazie scusa sono arrivata alla fine anche a Carla Di Berta il mio grazie particolare a voi tutte qui perché sono stato naturalmente molto bene questa sera grazie a tutte le donne perché arricchiscono ogni giorno la nostra vita grazie Daniele grazie per averci seguito alla prossima arrivederci questo programma è stato offerto da CVA gestione distributori automatici una scelta naturale